Buonasera a tutti da Sant'Antioco! Siamo qua per fare l'inaugurazione di quello che è il villaggio di Natale! Una cosa bellissima! Vedete alle mie spalle? C'è questa magnifica installazione luminosa che sta per essere accesa È un orso il più grande d'Europa? Si chiama... Speranza! Ma che speranza! Hop! E gli avete dato voi questo nome? Sì, ma Hop vuol dire Speranza! Eh, non vuol dire Hop! No! Vabbè, si chiama Hop! Comunque io, Gabriella, la tua sera natalizia non la sento! Ma che non la senti? Dai! Ma vabbè, la magia del Natale quest'anno non mi prende! Lo so, è un anno un po' particolare, ma cosa accetta? Sempre comunque è un anno importante! Dai, allora siamo pronti? Io vado col conto alla rovescia! Dai! 5, 4, 3, 2, 1, via! Ma tu? Che c'è? Ma come che c'è? Sei tutta la natalizia! Hai detto che non sentivi l'atmosfera! Niente, Gabriella, ma quando accendono le installazioni luminose la magia del Natale entra in me, non ci posso far niente! Vabbè, bene così! Però io adesso sono tutta rossa e io niente! Oh, meno male! Bene amici, allora il villaggio del Natale ha preso il via! Vedete alle mie spalle che si è illuminato! Ma questa non è l'unica installazione! Assolutamente no! Adesso andiamo a vederne delle altre! E voi tutti che state guardando questo video, venite a Sant'Antioco perché è più bello che mai! Ecco, ci siamo arrivati in Piazza Italia dove ci aspetta Rudolf, una delle rene di Vavoratale Mentre quella che vedete più su è la luna quella non l'ha messa il CCN C'era già! A proposito, Gabriella, diciamo chi ha reso possibile tutto ciò? Ma certo, la Regione Sardegna, il Comune di Sant'Antioco e il CCN Welcome to Sant'Antioco! Benvenuti a Sant'Antioco! Non devi salutare adesso, stiamo ringraziando! Gabriella, Welcome to Sant'Antioco vuol dire Benvenuti a Sant'Antioco! Davvero? Eh? Non sembra, bello Rudolf! Quello che vedete alle nostre spalle è un magnifico scoiatolone non so se si chiama il Cip o Cio Eh no, non lo so anch'io No, non lo so Vado a chiederci CIE Adesso, Gabriele! Comunque, volevo ricordarvi di venire a Sant'Antioco non soltanto perché è un paese meraviglioso e ci sono queste bellissime installazioni luminose ma anche perché ci saranno una serie di iniziative proprio dedicate allo shopping natalizio come per esempio Caccia allo Shopping un'iniziativa che vedrà tantissimi premi, soggiorni, televisori, telefoni ma ne parleremo più avanti Intanto adesso vado a raccattare Gabriele che sono sicura deve essere nell'ultima installazione luminosa A tra poco! Che palle! Ma Gabriele! No, che palle! Guarda, giganti colorate a formare questo bellissimo albero pensate che è più alto di me Anche quello che è sul comodino E comunque, per quanto riguarda le installazioni luminose non è finita qui Per vedere tutte le altre dovete solo venire a Sant'Antioco dove vi aspetta il villaggio di Natale e il fantastico Bosco Incantato Per tutte le altre informazioni visitate le pagine Facebook Welcome to Sant'Antioco e il villaggio di Natale a Sant'Antioco Venite, vi aspettiamo anche perché così potremmo dirvi Welcome to Sant'Antioco Molto anni 80 Ma perché? Grazie a tutti i nostri spettatori